Siamo nel Data Service della Regione Marche, abbiamo il piacere di presentare una volta questo luogo segreto della Regione dove vengono osservate le informazioni, i dati informatici non solo della Regione Marche ma di tanti enti strumentali, della sanità e la cosa più interessante è che con un bando che abbiamo fatto a febbraio questo luogo avrà un utilizzo anche per tutti gli enti locali, per tutti i comuni che parteciperanno al bando per il disaster recovery e per il server per poter erogare servizi di pubblica amministrazione digitali, quindi sostanzialmente ci prepariamo a diventare la più grande server farm della nostra Regione dove assisteremo tecnicamente anche ai comuni che vogliono intraprendere un percorso di innovazione tecnologica per poter erogare dei servizi digitali ai propri concittadini, inoltre anche come momento di sicurezza in caso di disastri naturali per poter conservare e dare continuità informativa alle varie funzioni pubbliche del nostro sistema sanitario.